Musica Incontro con l'assessore Mario Niedu per discutere le problematiche del pronto soccorso. Emergenza sanitaria e sindaci dell'Oristanese pronti a manifestare a Cagliari. Operative da domani due nuove USCA. Agricoltura e il via il bando da 6 milioni per aziende. Musica Benvenuti, sono 22.878 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi regionale si registrano 538 nuovi casi. Si registrano 9 decessi, 462 in tutto, 4 donne e 5 uomini fra i 52 e i 95 anni. In totale sono stati eseguiti 384.979 tamponi con un incremento di 4.744 test. Sono invece 593 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi con un più 16 rispetto al dato di ieri, mentre di 66 il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domicilare sono 13.561. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 8.111 pazienti guariti, più altri 85 guariti clinicamente. E' ora una breve di cronaca. Un operario di 25 anni, originario di Sini, è stato arrestato la notte scorsa dopo aver aggredito e picchiato la sua ex fidanzata di 35 anni residente a Laconi. L'episodio è avvenuto a Villa Mare e l'arresto è stato eseguito dai carabinieri della stazione locale che hanno accusato il giovane di lesioni gravi. La donna è stata ospitata da un centro antiviolenza. Torniamo a parli di emergenza Covid. I referenti del Comitato per il diritto alla salute della provincia d'Oristano hanno chiesto e ottenuto un incontro con l'assessore regionale alla sanità Mario Niedu, il commissario dell'Ares Massimo Temussi e il commissario dell'Aslo oristanese Maria Valentina Marras. Vediamo. Si è svolto mercoledì 2 dicembre l'incontro tra il Comitato per il diritto alla salute della provincia d'Oristano, l'assessore alla sanità Mario Niedu, il commissario dell'Ares Massimo Temussi e il commissario dell'Aslo di Oristano Maria Valentina Marras. L'incontro si è svolto in un clima positivo e di cooperazione tra le parti, con l'obiettivo di trovare soluzioni alternative per liberare definitivamente il pronto soccorso dell'ospedale San Martino dai pazienti Covid e renderlo definitivamente agibile per le altre patologie. Con l'interessamento e l'appoggio della direttrice Marras, la soluzione ritenuta da tutti più percorribile è quella di trasferire entro 15 giorni tutti i pazienti Covid presso l'ospedale Mastino di Bosa, ad occupare 40 posti letto e successivamente 30 posti letto presso l'ospedale De Logu di Ghilarza, così come già previsto dal piano di intervento regionale in emergenza Covid-19. Entrambi gli ospedali verranno dotati dei presidi necessari entro 15 giorni. Il piano regionale prevede inoltre per l'ospedale San Martino un reparto di terapia intensiva Covid-19, posti letto e un reparto di degenza di 12 posti, con percorsi separati tra pronto soccorso generale e accettazione Covid. Il comitato ha espresso soddisfazione per l'esito dell'incontro e resta in attesa dei conseguenti sviluppi. Sempre ieri l'assessore regionale alla sanità Mario Nieddu e il commissario straordinario dell'Ares Massimo Temussi hanno avuto modo di incontrare il sindaco di Oristano Andrea Luzzo. È stato un incontro utile per affrontare le tante emergenze della sanità oristalesi, a cominciare dal pronto soccorso, ha dichiarato Luzzo. In questi anni, tante volte, il Comune ha portato avanti il grido di dolore di un territorio che ha subito la progressiva riduzione dei livelli di assistenza sanitaria. Negli ultimi mesi, l'azione delle istituzioni del territorio, delle rappresentanze sindacali e dei comitati spontanei si è fatta più forte anche perché l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del nuovo coronavirus ha messo a dura prova una rete sanitaria già in grande difficoltà. Apprezziamo la disponibilità dell'assessore regionale e del commissario straordinario a venire incontro alle richieste che più volte abbiamo rappresentato alle istituzioni regionali. I sindaci dell'oristanese manifesteranno a Cagliari per chiedere l'invio di medici e infermieri. Una manifestazione dei primi cittadini a Cagliari per chiedere l'immediato ripristino dei servizi sociosanitari nella provincia d'Oristano attraverso l'invio del personale medico e infermieristico indispensabile. A deciderlo è stato il comitato del distretto sociosanitario oristanese riunito questa mattina dal presidente Andrea Luzzo per affrontare differenti temi dell'emergenza a cominciare dalla situazione del pronto soccorso dell'ospedale San Martino e dalla diffusione del virus. Alla riunione ha partecipato anche la direttrice dell'ASL Valentina Marras che non ha nascosto le problematiche e le note carenze di personale per garantire i servizi servono medici ci mancano 100 figure professionali tra dottori e infermieri. Più volte ho chiesto un'inversione di marcia, ha dichiarato Andrea Luzzo. Oggi ribadisco un concetto che ho messo nero su bianco poche settimane fa a fronte di una situazione di emergenza occorrono soluzioni di emergenza. Se è vero che sono pochi i dottori che accettano il trasferimento a Oristano in questo momento si faccia ricorso agli ordini di servizio o a qualsiasi altro istituto giuridico affinché siano ripristinati gli organici del territorio. Dal sindaco di Cabras, Andrea Abis, la proposta di una manifestazione a Cagliari. È importante la presenza dei primi cittadini in fascia tricolore a Cagliari per chiedere che a Oristano arrivino subito le figure che servono. Sulla stessa linea il sindaco di San Menomini e su Luigi Tedeschi ci vuole un'azione forte non per dire che c'è il problema ma per risolverlo. Saranno operative da domani venerdì 4 dicembre due nuove unità speciali di continuità assistenziali. Vediamo. Da domani 4 novembre entreranno in funzione due nuove USCA unità speciali di continuità assistenziale rispettivamente a Oristano e Ghilarza che si aggiungeranno a quella di Terralba già attiva dallo scorso maggio in tutto il territorio provinciale come servizio interdistrettuale. All'unità speciale di Oristano che avrà sede in via Michelepira sono stati assegnati 7 medici già in forza all'USCA interdistrettuale dall'inizio del mese di novembre mentre quella di Ghilarza che farà base all'ospedale De Logu potrà disporre di 4 dottori. I tre team potranno contare ora sui 17 medici se sono quelli operativi a Terralba che si sposteranno sull'intero territorio provinciale per seguire pazienti affetti da Covid che non necessitano di ricovero ospedaliero che sono stati dimessi dalle strutture ospedaliere che si trovano nel Covid Hotel o nelle residenze socioassistenziali. Le tre squadre saranno operative tutti i giorni compresi i festivi dalle 8 alle 20. Con il rafforzamento del personale USCA e la sua dislocazione in ciascuno dei tre distretti sanitari compiamo un importante passo in avanti nella gestione dell'emergenza ha affermato la direttrice ASL Valentina Marras non solo perché garantiamo una migliore e più capillare presa in carico dei pazienti ma anche perché attraverso il monitoraggio a domicilio possiamo riuscire a svolgere una funzione di filtro prevenendo l'ospedalizzazione e alleggerendo la pressione sui nosocomi Cambiamo argomento Bitti, paese della Barbagia sabato 28 novembre è stato colpito da un violento nubifraggio che ha causato tre vittime sentiamo il punto di Paolo De Sogus Alluvioni ricorrenti anche in Sardegna in questi giorni si piangono le vittime di Bitti e il disastro che ha colpito il paese della Barbagia paese di 2700 abitanti ed economia in prevalenza agropastorale con l'abitato che si estende in una valle circondata dalle emergenze di Sant'Elia il Monte Bannito è il buon cammino la conformazione del territorio ma non solo hanno consentito al mal tempo di produrre i danni che sono ancora da stimare parte del paese poi è stato costruito in zone a rischio su canali tombati ad esempio vero e proprio esplosivo in occasione di temporali generando le situazioni catastrofiche che oggi hanno ferito la comunità di Bitti anche nel passato l'incuria e i mancati interventi di manutenzione di canali torrenti e emissari si sono fatti sentire e dopo timidi cenni di ripristino il tempo registra solo i ceremoniali delle ricorrenze per i lutti e i disastri le procedure e le condizioni del Fondo di Solidarietà Nazionale e la dotazione finanziaria è lo stesso assegnata per gli interventi di tipo compensativo non sono per nulla adeguate a fronteggiare una calamità che ha stravolto le aziende e le campagne intorno a Bitti e ad altri centri del Nuorese e della Sardegna che invece hanno bisogno assoluto di risposte immediate l'assessore regionale dell'agricoltura Gabriella Murgia commenta così le parole del ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova che rispondendo ieri a un'interrogazione nel corso delle question time alla Camera aveva annunciato le misure del governo per sostenere in tempi brevi l'economia agropastorale delle zone colpite dall'alluvione del 28 novembre scorso cambiamo pagina guerra aperta nel partito sardo d'azione sentiamo l'approfondimento di Paolo De Zogus Se non è guerra quantomeno il clima è quello delle ostilità e dei veti ingrociati e chi intravedeva nel partito sardo d'azione un'ancora politica sicura si dovrà ricredere in relazione alla litigiosità che contrappone i vertici del partito ed in particolare il presidente nazionale Antonio Moro e il segretario Cristian Solinas Moro ha contestato il fatto che una riunione in videoconferenza svolta ad Oristano possa essere considerata un congresso come lo è stato nel corso del quale è stato eletto segretario e consiglio direttivo e il responsabile dell'organo di controllo l'esponente sardista che anche in occasione della formazione delle liste e la scelta del sindaco di Nuoro aveva assunto posizioni diformi da quelle della segreteria regionale per quanto riguarda il congresso di Oristano nel documento che ha divulgato scrive che sono state violate le norme dello statuto e che quindi il congresso stesso è da ritenersi nullo ad Oristano l'ufficialità dell'incontro lo hanno dato i consensi personali che al partito arrivano sino al messaggio del segretario regionale del resto non è la prima volta che nel partito dei quattromori la posizione dei due principali leader sono divergenti bonifiche amianto in arrivo 2 milioni per l'associazione ex esposti amianto cifra irrisoria e ridicola vediamo un ulteriore schiaffo ai cittadini sardi lo ha dichiarato l'associazione ex esposti amianto della Sardegna commentando lo stanziamento da 2 milioni di euro per lo sbaltimento dell'amianto che la giunta Solinas ha destinato ai comuni sardi l'associazione ha espresso una posizione critica nei confronti degli assessorati all'ambiente e alla salute dell'intera giunta regionale le motivazioni che ci portano a esprimere un giudizio critico sono dovute alla irrisorietà delle somme destinate alla bonifica amianto in una regione che purtroppo ha una massiccia presenza dei manufatti in cemento amianto ricordiamo che il piano approvato dal governo regionale precedente prevedeva la somma di 64 milioni di euro da destinare alla bonifica a oggi il piano e la legge regionale 22 2005 sono totalmente disattesi secondo Giampaolo Lilliu la ripartizione mette in evidenza la non conoscenza della questione in Sardegna da parte della giunta al via un bando da 6 milioni di euro per aziende della pesca e dell'acqua cultura vediamo è stato pubblicato il bando per la concessione di aiuti per 6 milioni di euro alle imprese della pesca e dell'acqua cultura possono accedere ai contributi le aziende che hanno sede operativa in Sardegna erano attive nel corso dell'emergenza e a causa della crisi hanno subito una perdita di fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso alle imprese che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre del 2019 e non oltre il 30 aprile del 2020 è concesso un aiuto una tantum di 1000 euro le domande di sostegno dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica dal 7 gennaio al 30 giugno del 2021 sono risorse importanti ha affermato l'assessore regionale dell'agricoltura Gabriella Murgia per un settore fortemente danneggiato dal calo delle vendite nei canali di distribuzione tradizionali che ha provocato una seria difficoltà a portare avanti la produzione secondo le modalità consuette voltiamo pagina a dicembre un libro in dono alle famiglie dei bambini di Oristano nati quest'anno vediamo il servizio per tutto il mese di dicembre anche le famiglie dei bambini di Oristano nati nell'anno in corso riceveranno in dono il libro A fior di pelle di Chiara Carminati confezionato in un kit che conterrà anche opuscoli con consigli sulla lettura l'iniziativa a cura dell'assessorato alla cultura della biblioteca comunale di Oristano è partita nello scorso mese di luglio con la consegna dei libri ai bambini oristanesi nati nel 2019 con questo ulteriore step sta per concludersi la prima annualità del programma la lettura è un dono ha affermato l'assessore alla cultura Massimiliano Sanna il programma nati per leggere a cui la biblioteca oristanese aderisce da tempo in cooperazione con i pediatri di base e il consultorio familiare ha l'obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita aggiunto Sanna il libro potrà essere ritirato nella sede della biblioteca in via Sant'Antonio dalle 9 alle 14 da lunedì al venerdì E questa è l'ultima notizia del nostro appuntamento con l'informazione e ora vi lascio alle notizie nazionali buon proseguimento con i nostri programmi Grazie a tutti